Faccio il regalo di compleanno al mio amico, andiamo! Caterina! Tu che ci fai qui? Ciao Jackson! Speriamo che la sorpresa gli piace Aspetta, vuoi mi mangiare? Ma sì, 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 ma veramente... Ma adesso come faccio? Tanti auguri! Tanti auguri! Dai Goblin! Tanti auguri! Dai, finiscila! A te! Oh, grazie nelle due di primerizzo! Di tutto perché non hai fatto una confezione al mio amico! Comunque, il tuo video, il tuo video, non l'ho visto! Ah, mi piccapparini! Oh, yes! Ah, con il... Figato! Sì, ma non lasciare questo! Frodo Baggins! Questo è là! Apri lo! Apri lo! Apri lo! Cos'è? 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 E' per te che ricassi! Yes, adesso posso fare musica anche con gli strumenti! Firme! Oh, ma quindi ti è piaciuto il tuo regalo? Spiato! C'è speranza del regalo! E' per te! Poi!